Abbiamo incontrato il gruppo del Movimento 5 Stelle, hanno condiviso le nostre preoccupazioni, si sono impegnati a presentare degli ammendamenti che vadano nel senso delle richieste che noi abbiamo fatto. E' emersa oggi una novità, che l'iter di approvazione del decreto rischia di arrivare in Parlamento intorno a metà luglio o al 20 luglio. Quindi rendendo vana la discussione fra le forze parlamentari e il confronto con le parti sociali che noi stiamo facendo. Alla luce di questo ulteriore problema, che potrebbe creare due fatti specie, uno dall'1 al 20 luglio, uno dal 20 luglio in poi, ancora di più si rende opportuna e necessaria la riapertura del tavolo da parte del Governo per affrontare anche questo problema.